E' stata avvistata la Dancing Serbia Lady all'interno del mondo Brookhaven di Roblox Perdonatevi si pronuncia Brookhaven o Brookhaven, non riesco a capirlo Questo player stava girando nella mappa ed era completamente da solo perché aveva creato un server privato E voglio precisare, era chiuso a tutti quanti, quindi nessuno poteva entrare Quando all'improvviso delle macchine iniziano a spawnare, è una skin veramente paurosa, compare dietro di lui Per il continuo cliccate sul tasto rossi iscriviti e lo carico proprio subito